Trovare ogni sera la canzone che possa portare a voi una carezza, un abbraccio. Trovare la canzone che possa allontanare i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, portare sollievo. E alimentare quella speranza che è giusto, giusto offrirla a ognuno di noi e non solo a noi. E' diventato per me un momento per poter scavare anche dentro di me, per andare a cercare quelle giuste note, scovare quelle note che possono portare calore ai nostri cuori. Ecco io vi faccio una preghiera. Sfruttate questi momenti e scoprite il dono del tempo che ci è stato fatto. Ecco, questo tempo offritelo ai vostri affetti, alle vostre famiglie. Portate nuovamente quella gioia, quell'armonia, quella musica nelle vostre case. Questa sera ho scelto una canzone. E' una poesia, a mio avviso, di Benigni. Quanto t'ha amato. E c'è un passo che dice Quanto t'ho amato e quanto t'amo, non lo sai. Perché non l'ho detto mai. Ma un giorno capirai Che nell'amore le parole non contano. Conta la musica. La musica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.